Il Teramo esce indenne dall'infido Zaccheria di Foggia, primo 0-0 della stagione, senza dubbio prezioso al termine però di una gara che di certo non sarà ricordata. Zero emozioni, portieri inoperosi, partita sporca, avversario ispido il Foggia di Marchionni, schierato secondo i canoni del 3-4-2-1, Curcio ed Andrea tra le linee alle spalle di Dell'Agnello. Paci conferma l'undici antibari, 4-3-3 più virtuale che reale con Bombaggi e Costa Ferrera esterni a supporto di Pizzauti. Partita bloccata, le squadre di fatto si annullano, il primo tiro si fa per dire arriva dopo ben 36 minuti a provarci a Rigoni dalla distanza. Tre minuti più tardi la risposta dei padroni di casa con D'Andrea che servito da Dijenno colpisce malissimo. Versante opposto, pasticciano i centrali rossoneri e limpida chance per Costa Ferrera che si coordina ma non trova la porta precipitoso. Lotto bianco-rosso che avrebbe potuto e dovuto controllare prima di concludere. Finale di frazione, brivido in area Terramana, calcio franco di Curcio, stacca Vitturini che precede tutti, allunga la traiettoria ma rischia un clamoroso autogol. Ripresa, punizione di Costa Ferrera, testa di Pizzauti, centrale Fumagalli blocca. Ilari prende il posto del Claudicante Mungo, non accade altro sino all'ultimo respiro. Minuto 94, K subentrato a Bombaggi mette in mezzo, Costa spizza il pallone che Ilari spinge in rete. L'arbitro di Graci di Como annulla sul segnalazione del primo assistente, Lencioni di Lucca. I dubbi restano, rimostranze bianco-rosse non del tutto ingiustificate, anzi, ecco il fermo immagine. Ilari sembra in linea con Anelli, posizione dunque regolare, questione di centimetri. Pari comunque assolutamente ineccepibile, in una partita davvero povera di emozioni, soprattutto di contenuti. Resta tuttavia la sensazione che il Teramo avrebbe potuto fare molto di più.